Benvenuto a McDonald's, cosa vuoi bro? Mi fai un McFlurry con gli Oreo? Non serviamo gelato al momento La macchina si è rotta, vuole qualcos'altro? Uh, io già lo sapevo La macchina funziona, frate, non ti credo Signore, si deve calmare ad accettarlo Lo so che stai mentendo, sei un bugiardo Non sta mentendo, è rotta Ti conviene perché entro a controllare Dai ti aspetto se hai voglia di litigare Il tuo culo allora io dovrò spaccare Quale dei due pensate che vincerà?